Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Spostandoci in A1 in direzione Roma fino alle 19, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio. Sempre in direzione Roma tra Albivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano si segnalano un chilometro di coda per lavori e un incidente venuto al chilometro 277. Ed è tutto, buon viaggio!